Non siamo noi violenti la verità che come i tempi di Bertolaso e Berlusconi anche Correnzi è vietato protestare anche per sacrosante ragioni, ma manifestare ricordiamo è ancora un diritto. Vanno al contrattacco i manifestanti protagonisti dell'accoglienza della visita a lampo del premier Matteo Renzi all'Aquila, accompagnata da contestazioni e scontri con tre feriti tra i manifestanti e uno tra le forze di polizia. Questa mattina a piazza San Basilio ad incontrare la stampa e rivendicare il loro operato c'era una luce a Bonanni, Alessandro Tettamanti del comitato possismico 332, Francesca Loisio vicepresidente regionale di Legambiente e presidente del Circolo dell'Aquila, Giorgio Bruno di studenti indipendenti. Tutti condannano il lancio del San Pietrino che ha sfiorato il vicepresidente di regione Giovanni Lolli, ma ricordano che la vera violenza premeditata è stata quella della polizia, loro dire che ha caricato preventivamente solo per rimuovere uno striscione. Mi dispiace molto che questa poliziotta, questa donna lavoratrice, si sia fatta male durante il suo lavoro. Come si vede però benissimo dalle immagini, purtroppo è stato un incidente, del tutto indipendente dalla volontà dei manifestanti. Lì c'è stata una gestione dell'ordine pubblico su cui probabilmente dovrebbero interrogarsi i responsabili. Si voleva impedire che i manifestanti arrivassero sotto il palazzo per evitare che il Presidente del Consiglio venisse ripreso durante una contestazione. Il lancio del San Pietrino, ovviamente nessuno di noi si riconosce nella violenza, non l'abbiamo mai fatto, ma se quello è un episodio generato da un momento di rabbia di qualcuno, a cui evidentemente questa rabbia che non è riuscita a controllarla, va pure detto che non è quello il senso della giornata e della manifestazione. E comunque se violenza preventiva, premeditata, scientifica c'è stata, è stata quella delle forze dell'ordine. Rispedita al mittente anche la critica ritenuta misera di aver protestato all'Aquila su temi che non riguardano il terremoto, ovvero contro le piattaforme petrolifere e metanodotti. Le questioni ambientali della costa abruzzese riguardano l'intero territorio. Sono il sistema e lo sviluppo di una politica che non funziona, una politica energetica che per il momento vuole delle trivellazioni nell'Adriatico, nell'unico tratto di costa ancora incontaminato o quasi almeno dell'Abruzzo, ma sono politiche energetiche che riguardano il nostro territorio. Noi abbiamo partecipato con i volontari del nostro circolo cercando di portare a Renzi quelle che sono le nostre perplessità, i nostri no alle sue politiche e abbiamo ricevuto prima ancora di arrivare al ridosso dei due edifici dove si sarebbe dovuta svolgere la giornata di Renzi manganellate.